simon ti sei appuntato sull'agenda il prossimo 19 aprile ovviamente no ma un po' presto per le ferie ma che cosa c'entrano le ferie adesso un appassionato di rpg strategici come te che se ne dimentica è vero hai ragionissimo una misia 18 anni terribile veramente per gamba però è così comunque ti aiuto io perché il prossimo 19 aprile dovete prepararvi amici è l'uscita ufficiale per nintendo 3ds di fire emblem awakening hai ragione giorgina il nuovo gioco sviluppato da intelligent system ci riporta nell'universo fantasy di ispirazione occidentale ma con influssi nipponici che da sempre caratterizzano la lunga serie nintendo e allora amici in questo angolo dedicato al cosplay andiamo a scoprire insieme i fantastici personaggi di questo fire emblem awakening fire emblem awakening narra le gesta dell'eroe che avremo l'opportunità di creare all'inizio dell'avventura scegliendone il nome il sesso e le fattezze protagonista che verrà trovato esanime e con una forte amnesia da cram e lissa fratello e sorella che sono in viaggio per il listol la capitale del regno di iris con loro c'è anche frederick possente guerriero che continua a spronare i compagni a fare in fretta parlando di una guerra imminente lo stile dell'intera produzione si rifà ovviamente a quello dei passati episodi di fire emblem anche se i protagonisti appaiono più moderni e rifiniti nella magnificenza del 3d durante gli intermezzi i modelli dei personaggi sono in bella mostra con gli artwork bidimensionali che li affiancano mentre le battute vengono recitate denotando una cura non comune di grande impatto emotivo le musiche che accompagnano i combattimenti stupende le cut scene animate di qualità eccellente e con uno sfruttamento del 3d di grande livello fire emblem awakening si presenta come un titolo molto rifinito che fa leva su personaggi ottimamente caratterizzati un must per gli appassionati della serie e di grande interesse per tutti i cosplayer amanti dei costumi ispirati a saghe di cappa e spada i personaggi di questo fire emblem awakening sono davvero tantissimi e il loro character design sopraffino ritroveremo le classi dei più famosi giochi di ruolo e quindi arcieri maghi paladini lord mercenari e così via ma vista appunto la notevole mole di personaggi per praticità li abbiamo suddivisi in macro categorie andiamo subito a vedere assieme i combattenti nella compagine maschile fanno bella mostra di sé gli abili e magnificenti chrome e frederick bardati in armature figli ed eleganti che esaltano la loro prestanza fisica il valente basilio il poderoso gregor l'abile jerome kellam interamente ricoperto da un'imponente armatura il brusco e muscoloso vaike il mercenario virion il ladro gaius lo scaltro inigo owen appartenente alla classe dei mirmidoni e il generoso cavaliere stal sul versante femminile ancora maggiori sono le possibilità e interessanti le scelte shares fluenti capelli rosa e sexy armatura cordelia la combattiva lucina l'elegante e irriverente anna l'arcera noir proveniente dal futuro l'ambigua mercenaria severa l'androgina salli dai corti capelli fulvi sumia con il potere di capire i sentimenti degli animali tic in maliziosa mise rossa con svolazzanti drappi rosa la coraggiosa ed eroica flavia la piccola nada le lunghe trecce verdi novi che a rispetto delle sembianze adolescenziali è in realtà una donna di oltre mille anni la principessa saeri con una mise chiaramente ispirata alla tradizione del giappone feudale e infine l'energica e vitale cinzia appartenente ai pegasus knights non solo guerrieri però popolano il mondo di fire emblem vediamo dunque che cosa aspettarci da chierici maghi stregoni streghe e così via la bella ereteria danzatrice olivia con un outfit che ricorda vagamente le odalische la prodigiosa chierica lissa vagamente ispirata alle gothic lolita la conturbante maga oscura taria la nobile meribel col suo vezzoso ombrellino bianco pan essere antropomorfo appartenente alla razza estinta dei taguel e miriel maga dall'aspetto potteriano aria severa ed inflessibile tra i personaggi maschili spiccano l'oran mago dagli atteggiamenti glaciali e futuro figlio di miriel il piccolo maghetto riken mascotte del gruppo harry mago oscuro con un sorriso perennemente stampato sul volto che cela tuttavia un'identità crudele brady appartenente alla classe dei priced e figlio futuro di meribel il serafico libra amato tanto dalle donne quanto dagli uomini per via della sua avvenenza androgina e morgan personaggio particolare senza memoria alcuna che modella il suo carattere le sue origini a seconda dell'andamento della storia e degli avvenimenti sarà di sesso opposto rispetto al vostro avatar ma i personaggi non sono ancora terminati diamo un rapido sguardo a quelli scaricabili attraverso la feature di nintendo 3ds spot pass e dlc scaricabili a pagamento tra i primi abbiamo lo spietato gangrel il massiccio conquistatore wolkart dall'inconfondibile armatura rosso fuoco la bella e saggia emmeryn con abito sacerdotale e ampio mantello sui colori di bianco verde e oro yenfei maestro di spada e fratello maggiore di sairì anche lui infatti indossa tipici abiti della tradizione giapponese aversa sottoposta di gangrel fan fatal nonché uno dei maggiori antagonisti della serie e infine priam con armatura lunghi capelli corvini spada in mano il classico eroe ma è tra i dlc a pagamento che si celano forse i costumi più interessanti per i cosplayer a partire dal bel principe marf est la più giovane delle pegasus sisters con una misa sbarazzina rossa come il suo taglio di capelli catria i cui abiti sono tutti giocati sui toni di azzurro e blu chioma inclusa palla la più grande delle sorelle si caratterizza invece per il colore verde il guerriero mercenario alm la graziosa maga selica selif maestro di spada il paladino eldigan leaf che sembra il gemello di parla direttamente dal record of lodos war il magnifico roy lindis probabilmente una delle new entry femminili più interessanti della serie l'impavido e frame erika che con il suo abito principesco e i lunghi capelli verde acqua farà la gioia delle cosplayer e ancora il mercenario ike l'affascinante elinzia la piccola maga micaya e infine catarina bella e temibile nel suo abito armatura viola e oro e un capitolo a parte andrebbe ancora trattato per i nemici ma noi per oggi terminiamo qui come avete visto in questo fire emblem awakening c'è una mole spropositata di personaggi e comprimari che metteranno d'accordo veramente tutti sia chi cerca delle novità per stupire chi cerca costumi particolarmente elaborati e raffinati chi invece vuole sorprendere con dei costumi ammiccanti ma molto raffinati noi ci rivediamo la settimana prossima e come sempre buon cosplay a presto